L'incidente è oggi, mercoledì 29 agosto, poco prima delle 17, sulla strada provinciale 222 in frazione Sant'Antonio di Castellamonte. Coinvolte tre vetture, una Lancia Ypsilon che ha terminato la sua corsa nel fosso contro ad un lampione dell'illuminazione elettrica, un Peugeot 206 e una Fiat Grande Punto che si sono fermate a bordo strada una fianco all'altra. Ferita non in modo grave, la ragazza si trovava a bordo della Ypsilon e che è stata trasportata all'ospedale di Quarnier, illesi gli occupanti delle altre due vetture, la dinamica e al valio dei carabinieri. Grazie